a rete dotati di carattere volitivo e combattivo siate sempre all'altezza delle situazioni anche se spesso imponete il vostro punto di vista ammorbidite questa carica cercando di contare fino a 10 prima di condire la giornata di risposte e toni troppo duri toro non adagiatevi troppo su posizioni consolidate stemperare le ansie e salutare a lasciarsi andare alla pigrizia e dolce far nulla potrebbe creare qualche problema e organizzate la vostra tabella di marcia e portate avanti i programmi fermi da tempo gemelli sarete in sintonia con il vostro ambiente circostante ma nonostante questo non mancherà qualche pensiero cupo che dovrete smorzare immediatamente per non inaridire una giornata positiva puntate sul vostro spirito orguto e fanciullesco sarete vincenti cancro qualcosa si muove nel settore economico forse un'entrata non prevista o un aumento del vostro guadagno vostro morale ne beneficerà e ritroverete motivazione per realizzare un piccolo progetto che vi sta a cuore evitate di colpevolizzare qualcuno leone la giornata ha una buona partenza ma dal pomeriggio qualche disagio farà capolino trasformando il buon umore in qualche pensiero impegnato o preoccupato cercate di sdrammatizzare le situazioni probabilmente non le giudicherete alla vostra altezza vergine nonostante qualche questione che rende in salita il vostro percorso oggi sarete gratificati da buone angolazioni astrali che vi daranno la spinta necessaria per non arrendervi alti e bassi sono normali nella vita non state ad analizzare troppo ogni caso bilancia il vostro temperamento pacifista e lontano da ogni forma di aggressività vi rende persone piacevoli da frequentare moderate però quella tendenza a un certo narcisismo e a quella forma di indolenza che potrebbero guastare il quadro armonico che emanate scorpione la vostra intensissima carica emotiva oggi potrebbe esprimersi in maniera ombrosa le vostre reazioni saranno un po esagerate il vostro istinto ama o odia in modo estremo ma talvolta è necessario mitigare con il raziocinio questa caratteristica viscerale che vi contraddistingue sagittario nonostante il cammino un po impervio che vi trovate davanti la vostra innata capacità di ripresa vi porterà fuori da ogni situazione difficile il senso dell'avventura e la voglia di sperimentare cose nuove saranno il vostro salvagente che vi porrà in un'ottica sempre positiva capricorno il vostro chiaro senso della realtà e della logica vi guida verso soluzioni mirate sia nel lavoro che nella vita di relazione la concretezza e la praticità di cui siete dotati possono essere un valido aiuto nell'esistenza ma non cadete nell'aridità e date voce al cuore acquario la tendenza a vivere in modo anticonvenzionale e libero potrebbe suscitare perplessità nel vostro ambiente ma chi vi conosce bene apprezza la vostra sensibilità umana il senso dell'amicizia e la grande fantasia procedete verso i vostri orizzonti con serenità pesci instabili e contrastati per natura reagite in modo diverso alle situazioni a seconda dei vostri stati d'animo impressionabili e mutevoli rendendo complessa la comprensione della vostra emotività a chi vi frequenta cercate la sintonia con voi stessi prima di esporvi agli altri buone stelle ciao 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 ciao